A 22 anni dalla strage di Via D'Amelio, in cui morirono il giudice Polo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta, Palermo si ferma ancora una volta a ricordare il sacrificio del magistrato che insieme al collega e amico Giovanni Falcone sembra infliggere i colpi più duri della giustizia alla mafia. Nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Palermo è stata allestita la mostra dal titolo Gli Invisibili, che attraverso gli scatti della fotografa Lavinia Caminiti ripercorre 100 anni di lotta alla mafia, raccogliendo le immagini delle lapidi e gli articoli di stampa che hanno raccontato Cosa Nostra. Invisibili sono i magistrati, i giornalisti, gli uomini delle scorte, la gente comune, i semplici passanti, uccisi perché credevano nella legalità o per sbaglio. Un percorso ideale lungo le vie di Palermo, teatro di delitti e una denuncia verso una città che spesso sembra non coltivare a dovere la propria memoria. Qualsiasi riferimento a quegli eventi infatti sopravvive a fatica, in targhe cancellate, di velte o che ancora peggio, versano nel degrado nascoste dall'immondizia.